I russi sono qui fuori, se vedono le vostre armi spareranno Madonna ragazzi, è crudissimo Ma raga ma, ma minchia ma ho piazzato, ho piazzato un pacco, un regalo di Natale, di Babbo Natale sopra la pedaliera Come cazzo fa il Cristiano ad entrare a non vederlo? Dovrò farlo saltare per aria, basta immagino, dovrò aspettare che qualcuno ci salga sopra Ragazzi, Michael Bay Porca puttana la parata era Ah abbiamo fatto il giro praticamente Oggi hai perso brava gente Questo è il costo della guerra Occupiamoci della base di Barkov e le loro morti avranno un senso Ce la vedremo brutta Anche loro adierà un piano Ok, raga è qualcosa di incredibile questa cazzo di storia È devastante Tolgo la cam Benvenuto a casa mia Alex Ci troviamo accanto alla base di Barkov Per tenerli col fiato sul conto Amici vicini Nemici più vicini Sai che abbiamo i nostri metodi Niente granate improvvisiamo Non male Pensi che combattiamo con archi e frecce? Siamo partiti subito Si capiscono solo la violenza Ed è proprio quello che avrà Marco fa forza aeree Ma le abbiamo anche noi Ma non è vero Pronti? Sì comandante Ci sono Non è vero Non è vero Ma va beh più o meno Ecco la pista Gli alti conti Bene conti Gli alti conti Complimenti Che cazzo di storia Andiamo alla giù Addocco Oddio pensavo ci avessero messo L'uomo cannone qua dentro Si dirigono alla base aerea di barco Richiedo sopporto aereo ravvicinato Ricevuto 3-1 Vi invio un velivolo d'assalto Senza contrassegni Attendere Ricevuto Tutti pronti Attacchiamo le armerie Prendiamo le armi E poi la base aerea Sì carino Ugini Combattiamo per lì Cosa fai? Smetti subito di farmi Il cannone Penso io con il cecco Va che qua voi avete la mira Gli occhi storti Grazie a tutti Sì carino 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 dammi questo cazzo di drone che mi addobbo contro addobbo addobbo vediamo qua se c'è ho le flashbang mandato vedi serve qualcosa a cercare gli strike c'è un altro addobbo versione 2 frontale questa volta stuc un tipo dietro non lo stavano uccidendo ditemi che ce ne sono altri per favore morto altri elicotteri dove sono gli elicotteri come hai letto altri elicotteri si ma se non ci sono elicotteri da buttare giù o altri nemico tra gli edifici non penso di averlo ucciso faccio la festa io se volete basta chiedere ma chi spara questo ecco qua il campione ci vado dritto con gli aerei va ciao ragazzi è stato un piacere lo vedo la granata farà la granata mi decollo al corpo via cosa ci faceva farà mannaggia la miseria cosa stai facendo dietro sai cosa vuol dire coprire le spalle cosa vuol dire coprire le palle levati andato quello lì dentro c'era un altro che non vuole morire lo facciamo saltare subito in testa c'era un altro scendiamo con l'aereo va ok stanno schierando rinforzi scopritemi maron mio bomba mi vedo belli focusati tutti quanti ragazzi buono questo AK-12 con sto mirino mi piace l'armeria è qua dentro ok vai all'armeria edificio rosso Alex ma perché non mi puzza di merda questa situazione prima armeria sicura ok il car mi serve perché è una buona arma a lunga gittata tanto voglio vedere se c'è qualcos'altro no niente lo scar va molto va più che bene lo scar voglio provarlo questo scar con che voce con che voce meno stai dicendo dobbiamo passare è l'unico accesso alla pista mi è venuta un'idea provo a sfondarlo vai infilatissi dentro bro grande a dir è il numero uno ah ok è morto eh sto cazzo abbiamo perso 16 persone fra bello lo scar ragazzi bello vero ma chi sta sparando morto porca puttana mi stavano già aspettando raga sono cioè aimbot totale proprio prendi fuoco merda attacchiamo l'ultima armeria ma chi è che mi ha sparato prima che mi ha prendiamolo e la base è in onda eccolo qua cazzo ragazzi hanno una precisione pazzesca ma io di più vero? ma dov'è nascosto? dov'è nascosto? stronzo lì dietro frama non lo vedi il segnalino della cosa collateral non mi ha fatto il collateral ma ragazzi stiamo ripulendo proprio preciso che è caduto è caduto oh coglione lì dietro la testolina è un po' più fuori e facciamo la foto niente foto quello è l'rpg vai a fare in culo te l'rpg fammi salire oh sì è chiusa c'è una botola sul tetto Alex fammi salire guarda volevo entrare lanciargli la stordente per menarli a botte a tutti fammi salire fammi lanciare una stordente fra qui Alex apri uno due tre tu 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 è ancora finita forza ultima armeria sicura rifornitevi qui da me eeeh il lanciagranate incendiario ci intrappoleranno che non mi serve altro qua ci si diverte raga non ho altre munizioni o me ne dà che passo qua facciamo così va così posso entrare ecco 3-1 vai per 1-1 in avvicinamento fronti all'azione le vostre coordinate vai per qui 3-1 è un piacere avervi trattato abbiamo alleati nell'angolo staccati da truppe sulla pista sparate appena fronti ricevuto 3-1 vai per in arrivo versagli in pista attacco in colpo che cazzo di figata è merda saltate per aria questo supporto aereo è letale oh c'è un altro caro armato su è un nemico distrutto ora pensiamo a quelli a terra è un nemico con un rpc colpitelo ma dove? non lo vedo si ritirano ah ok andiamo a inseguirli o tornare alla base non lo vedevo è quello che resiste alle esplosioni chi cazzo sei fra tutti i bersagli distrutti nessun nemico in vista passo ricevuto vai per 1-1 grazie del supporto rimaniamo in contatto dipende da me la cosa allora uccidi russi solamente quelli cattivi è un grande giorno per l'Urzigstan grazie siamo una bella squadra si abbiamo più tempo ma barco freagirà anche noi Alex e le truppe del comandante Karim hanno distrutto la base operativa del generale Barkov imitando per un po' la forza aerea russa in Urdzikstan dobbiamo sbrigarci sergente Garrick grazie alle tue informazioni sappiamo che la cellula di Al-Katala che ha attaccato Piccadilly è in una casa nel nord di Londra tre squadre dell'SAS entreranno a controllare se il lupo è in possesso del gas rubato ai russi in Urdzikstan dobbiamo trovarlo ed avvisate potrebbero essere dei civili occhio a dove sparate ok dammi il sensore mi cazzo di sensore mi cazzo di sensore mi cazzo di sensore